Ho visto un amico in biblioteca. Metti le chiavi sulla tavola. Guarda il tramonto dal balcone. Ho comprato i biglietti per il concerto. Lo studente bravo riceve una medaglia. Quella è la casa dei miei genitori. Il giornalista lavora ad un articolo. Ho letto un libro interessante. L'amico di Marco è venuto a trovarci. La scuola è il posto dove impariamo. Guardate un film insieme. Ho mangiato una pizza margherita. Il professore di storia è molto bravo. Il leone è un animale selvaggio. Il leone è un animale selvaggio. Il leone è un animale selvaggio. Il felipe è andalto. messi... Siamo... La borda... Delete. Siamo ecclioriamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.